Almeno 22 milioni di sciiti da 60 paesi del mondo sono giunti a Kerbala in Iraq per la commemorazione dell'Arbain. Questa giornata segna la conclusione dell'ashura, il periodo di lutto per l'uccisione dell'imam Hussein Ibn Ali, terzo imam degli sciiti e nipote di Mahometto. Hussein e 72 suoi seguaci vennero uccisi dalle truppe del califo Mayade Yazid I. La strage avvenne il 10 del mese di Muarram dell'anno 40 dell'Egira, il 680 della nostra era. Ed il lutto per l'evento presso gli sciiti dura 40 giorni.